Panda Security e VAR Group Un'alleanza importante soprattutto per la comunità di intenti e una visione identica su quello che ci riserva il futuro. In particolare l'attenzione sull'intelligenza artificiale che accomuna entrambe le aziende. Per noi l'intelligenza artificiale vuol dire principalmente l'adozione del machine learning con apprendimento assistito per rendere sempre più affidabili e sempre più flessibili le nostre soluzioni di security e di threat hunting e mettere a disposizione dei nostri clienti congiunti il top della tecnologia. Per i clienti è importante avere la consapevolezza di poter adottare l'intelligenza artificiale ma in modalità assistita e in modalità soprattutto sicura e protetta per garantire che un'opportunità di business non si trasformi improvvisamente in un threat.